Grazie. Grazie a tutti e ben ritrovati a questo catalogo delle perdite e dei ritrovamenti in tempi di Covid. Oggi vogliamo trattare un tema molto delicato ed estremamente importante perché non tutti accedono nello stesso modo alle cure che la medicina e il sistema sanitario nazionale mette a disposizione. Ci sono dei problemi che dobbiamo cominciare ad affrontare forse in maniera sempre più importante. Abbiamo l'onore di avere con noi un professore, un professore importante in cardiologia che è il professor Mohamed Bamushmush, che è professore all'Università di Firenze e anche all'Università dello Yemen. In particolare ci parlerà di come i differenti gruppi etnici, quindi le diverse etnie, hanno accesso, diciamo, al sistema sanitario, la possibilità di essere presi in carico in maniera efficace ed efficiente. Il titolo del suo intervento è «Le comunità etniche italiane e il problema del Covid-19». Professore, buongiorno, benvenuto e grazie per aver accolto il nostro invito. Le lascio la parola. Buongiorno. La pandemia di Covid-19 ha scoperchiato un vaso di Pandora facendo vedere delle verità che molti non hanno voluto vedere nel passato. analogamente alla voce innocente del bambino della fiava i vestiti dell'imperatore di Andersen, che dice alla gente «Guardate il re in nudo, mentre invece gli altri lo immaginavano vestito e in maniera molto elegante», anche il virus del Covid-19, che propriamente non ha le caratteristiche per essere considerato un organismo vivente da un punto di vista biologico, tuttavia cambierà la nostra prospettiva di vista della realtà. Ora, in Europa, ci sono milioni di soggetti che fanno parte delle minoranze etniche. Questi non sono solamente gli immigrati che arrivano tutti i giorni nella parte meridionale dell'Europa. Molti, da cittadini di prima generazione, stranieri, immigrati, si sono naturalizzati, ma molti di più sono nati e cresciuti nei paesi nel quale sono nati. In alcuni paesi europei gli antenati di questi immigrati sono arrivati da più di un secolo e l'Italia, che è un paese che ha visto questa realtà relativamente recentemente, siamo già alla terza o quarta generazione. Ora, nonostante gli sforzi legislativi che stanno cercando di far sì che queste minoranze etniche possono avere tutti i loro diritti civili, compresi quelli della salute, purtroppo, in una parte, il sistema rimane ancora istituzionalmente razzista. In effetti, le minoranze etniche sono ancora quelle che hanno maggior bisogno di essere curate. Tornando all'argomento di oggi, che è il Covid-19, noi vediamo dei dati che sono ancora in fieri, ma in molti paesi, non solamente negli Stati Uniti, ma anche in molti paesi europei, i morti per Covid in percentuale sono molto di più di quanto queste minoranze etniche sono effettivamente rappresentate nella società. Quindi questo è un indice di iniquità e ci sono vari motivi che spiegano queste iniquità. Il primo, ed è molto noto, è quello che viene chiamato il gradiente sociale della salute, cioè i più poveri, i più disoccupati, i meno istruiti, sono quelli che si ammalano di più e contemporaneamente sono anche quelli che hanno il minore accesso alla salute e fra questi soggetti buona parte sono dei soggetti che fanno parte delle minoranze etniche. Un altro motivo è legato al diverso approccio alla malattia dei soggetti appartenenti alle minoranze etniche, ovvero quando qualcuno delle minoranze etniche si ammala, cerca di trovare l'aiuto all'interno della sua comunità, in parte perché lì ha le sue affettività e in parte anche perché ha una certa diffidenza verso il mondo, esterno alla sua comunità, per cui noi abbiamo quello che viene chiamato il self-care, cioè cerca di arrangiarsi da solo, oppure il family care, cioè quello di cercare di andare a trovare l'aiuto per la sua malattia dalle persone che sono più vicine a lui. Questo è anche legato al fatto che le minoranze etniche non conoscono bene il sistema istituzionale del health care e spesso e volentieri hanno una difficoltà ad interagire con esso. Un altro elemento è legato anche al fatto che i soggetti appartenenti alle minoranze etniche vedono la malattia come uno stigmata, come un danno, e quindi non l'accettano, sia a partire da malattie semplici come può essere l'ipertensione, che a malattie più gravi come l'HIV o come in questo caso il Covid-19. Per cui noi vediamo che questi soggetti hanno una difficoltà ad intraprendere un dialogo ermeneutico con il sistema sanitario. Abbiamo delle difficoltà a che questi due sistemi, il sistema sanitario e le minoranze etniche, che hanno un background socio-culturale diverso, intavolare un discorso per affrontare un argomento che gli interessa insieme, cioè la malattia, in questo caso il Covid-19. Questo ci spiega perché quando è iniziata questa pandemia le minoranze etniche sono quasi completamente scomparse dalla circolazione e si sono presentate al sistema sanitario quando probabilmente non erano più in grado di poter essere curate. Il primo giovane che è morto in Italia è stato un ragazzo di 30 anni, uno studente del Camerun che è andato in ospedale probabilmente quando non c'era più nulla da fare. Non possiamo parlare poi delle comunità cinesi che, magari spinte dai loro responsabili, prima ancora che venissero emanati i decreti del governo italiano, avevano già chiuso la maggior parte delle loro attività commerciali e si erano resi completamente invisibili. Un altro punto che vorrei ricordare a questo proposito è la morte dei medici appartenenti alle comunità etniche. Noi vediamo che il numero dei medici morti appartenenti alle minoranze etniche in Europa in percentuale è superiore alla loro reale rappresentanza all'interno dei sistemi sanitari. Questo è un dato che vediamo in maniera prorompente in Inghilterra ma anche in Italia. Alla settimana scorsa quasi il 10% dei medici che sono morti erano dei medici appartenenti alle minoranze etniche italiane. Una spiegazione di questo fenomeno può essere data dal fatto che questi medici probabilmente lavorano alla base della piramide del sistema sanitario italiano e quindi sono stati tra i primi a venire in contatto con i soggetti affetti da Covid. È doveroso per noi ricordare in particolar modo i medici che sono morti che erano in pensione e fra questi anche medici appartenenti alle minoranze etniche che quando sono stati chiamati dai loro pazienti e qui dico pazienti non ex pazienti perché per un medico non esiste un ex paziente quando hanno visto che i loro medici e i loro malati erano in difficoltà sono andati a cercare di aiutarli anche a mani nude ed è per questo che sono morti. Quindi questa pandemia ha colpito l'Italia totalmente e ha colpito probabilmente in maniera un po' più forte le minoranze etniche che sono la ruota più, l'ultima ruota del carro della società italiana. Grazie professore, il suo intervento è assolutamente chiaro e bisognava proprio sottolineare questo problema perché si sono messe in evidenza altre forme di discriminazione ma di questa ancora non si è sentito parlare e quindi è estremamente importante. Voglio ricordare che il professor Bamomouche è anche rappresentante di quella struttura che cerca di promuovere il dialogo interreligioso tra le diverse religioni che è un comitato estremamente competente, estremamente importante che anche in questa occasione sta dando grande contributo appunto per il contrasto alla discriminazione. Se parliamo di discriminazione, di attenzione al dialogo interreligioso, bisogna che io chiami in causa anche la dottoressa Teresa Tosatto che collabora con me ormai da molto tempo sui temi che riguardano la morte, il morire e anche le tematiche relative alla spiritualità e alla religiosità. Dottoressa Tosatto, grazie per aver accolto l'invito. È lei che ci sta assistendo in questa produzione, in questa registrazione. Immagino, dottoressa Tosatto, che lei voglia fare delle domande, almeno una, al professor Bamomouche. Certo, grazie a lei, grazie a voi per la possibilità. Io mi domandavo quale sia la situazione rispetto al contagio da Covid-19 nei paesi originari delle comunità etniche italiane. Questo è un altro punto critico che noi dobbiamo tenere in considerazione. Buona parte dei paesi da cui vengono le minoranze etniche in Italia, sono dei paesi nei quali non esistono delle terapie intensive, oppure non sono così strutturate come possono essere nei paesi industrializzati. Come del resto, non esiste la possibilità di poter utilizzare dei farmaci, tipo i farmaci antivirali, che sono estremamente costosi, o gli altri farmaci che ora qualcuno propone come antinfiammatori per malattie reumatiche o d'altro. Lo stessa diagnosi non può essere fatta sia che sia un tampone nasofaringeo oppure gli esami serologici, se non a coloro che sono in grado di poterselo permettere economicamente. La maggior parte dei soggetti che vivono in questi paesi in via di sviluppo sono dei soggetti che non hanno dei sussidi, non sono in grado di poter ricevere un'assistenza sociale e cercano di vivere fondamentalmente alla giornata. Per cui questo social distancing o social isolation che è stato fatto ha praticamente interrotto qualsiasi loro possibilità di poter vivere la loro vita in maniera quotidiana. Una parte di questi soggetti avevano la possibilità di poter avere degli aiuti dai loro familiari che lavoravano nei paesi sviluppati. Purtroppo questo non è così sempre facile perché se vediamo la nostra realtà italiana una parte dei soggetti che fanno parte delle minoranze etniche non hanno un lavoro legalmente riconosciuto per cui neanche loro sono in grado di poter accedere ai sussidi che sono stati messi da parte del governo italiano. Quindi questo rende una situazione difficile per questi paesi per cui più che parlare in questa situazione di un'assistenza di tipo medicale noi dobbiamo cercare di pensare ad un'assistenza di tipo socio comunitaria ed è per questo che io credo che è necessario cercare oggi di coinvolgere nei paesi europei e in Italia i rappresentanti delle comunità di queste minoranze etniche per far sì che queste facciano da catalizzatore tra le loro comunità e gli organi dello Stato sia sociali ma anche di tipo medico. Quello che io spero è che questa pandemia possa dare la possibilità ad una nascita di una nuova società, una società che al di dentro e al di fuori dei confini dei paesi ricchi possa creare una possibilità di una equità se non di una eguaglianza fra gli umani. E un modo per poter dimostrare questa cosa sarà quando verrà fatto il vaccino. Vaccino che tutti quanti stanno cercando di sfruttare economicamente però per una equità dovrà essere fatto e dato gratuitamente a livello mondiale per tutti perché questo è anche un modo per evitare che possa ritornare una pandemia nei paesi che hanno speso tanto non solo economicamente ma anche socialmente per poterlo fermare. Grazie, grazie professor Bamouche. È veramente cruciale ciò che lei ha detto oggi. Speriamo che ascoltino in tanti e che prendano le dovute decisioni proprio anche grazie a questo tipo di riflessioni che sicuramente devono essere sviluppate ulteriormente. Ringrazio anche la dottoressa Teresa Tosatto per averci guidato e essere stata con noi. Professore alla prossima grazie ancora. Grazie a voi.